Vai, 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 3, 2, 1... Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul canale SeminesCrew Qua sono in video sulle co-op con il carissimo Andreone E siamo qui oggi a fare una co-op su FIFA con la Juventus Partiamo subito con la ricerca, la storia è subito trovato E boh, niente, siamo qui con Andreone, la Juventus E proveremo a vedere... E le campane che suonano Le campane che suonano, perché non bastano mai Comunque, diciamo qui, magari ci viene fuori una serie carina Se riusciamo ad andare un po' avanti con le partite Giusto per portare qualcosa di un po' diverso su FIFA Una bella co-op In cui magari si può tirare fuori qualcosa di bello Juventus PSG Abbiamo fatto un po' le partite per provare insieme all'inizio Ovviamente si deve poter giocare Quindi si sia Abbiamo un modulo che è ignorantissimo Ci è piaciuto questa volta Siamo molto attentivi L'ho scelto il 3-4-3 Siamo in attivazione Ti bala E' rovecciata come sempre Questa sfida Come diverso del meglio del caccio Di prima Prepariamoci al duello Rosso Il due di vacazione Secondo palo Secondo palo Su La parata E' cosa è che cazzo perché l'era Ronaldo Quello è abbriccato Di sorti cance Bello Se ne ha dato Il trattorino Boom Bastardo Il gol dell'exe Ma tu che importa? Boh forma Eh quel mio Che un bastardone Che 0-0 Sì sì ma me ne ho togliere sto so che dirà di merda Mettere Miralem Miralem C'è il calcio d'inizio Per il Paris Saint Germain In questa ripresa Dai ma lì la c'è l'anticipo Ci deve essere Va Fai un culo su Douglas Cost Torrelli Cristiano Ronaldo Vabbè Ronaldo questa idea Guarda che è che me nemmeno Ma Ovviamente voglio osservare speciali Del match di oggi Giocatore dalle indubbie Attenzione perché questa può essere L'amore che vuole di vantaggio Mostruoso La copertura del difensore Mi testa la finga Ma è stop di taco Perché deve farci vedere Questo ragazzo Rosso Questo è rosso Mi avete dato proprio i coglioni Falliti Marione Ma tanto è storto Te è un altro giallo Era difficile coordinarsi C'era un po' difficile Magari c'è la coordinazione giusta Bello così Rosso 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 Sì Persone Faccio poi Con il cambio che non aveva fatto anche quadrato è un po stanchino punta Ronaldo via questo dentro Alexandro e Alexandro va a fare il vestito di là dici che Quadrato è un po stanco metto il Bernard che mette un Bernardeschi va a vangulo buona figura potremmo ci tirere a entrare che magari è più pronto che Quadrato c'è il filo di fissilato sui golletti le ha fatto in passato in passato eccolo tira un pezzo di merda che non sei altro che roccia ma no ma che storto che storto di merda ho toccato un'attacchetta fra che storto di bala si pure rotto di bala si pure rotto si tira 3 e non entra staccazzo di bocci ma dai Bernardeschi fallito bello questo bellissimo scatola difensiva ma come fai con la due tre tira rigore siiii ma capisci che il problema è che è il problema che è il problema del vantaggio strameritato grande douglas madonna fenomeno eh buffona fida questa è il nuovo fatto quello eh ma ma che sa per darci rigore guarda guarda che trattore ma tu dici dove vai dove vai via ma ma no eh non così buono 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 che cazzo di stop che fa Ronaldo non li fa nessuno scusate non è solito lui no madonna che trattore si fa che fa di merda ci sono tre minuti diretti ci sono in sotto semplicemente semplicemente uff uff vai dentro no eh va quanto culo guarda quel passaggio di merda che ha fatto quello lì porca puttana troia non è mai racconto possono addirittura trovare il colpaccio dai sfruttando un momento favorevole lo stagio non ci credo guarda cosa che ti sento fina partita si si quella parola con la vita di una no bene quindi non si fa gli passaggi dai 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 veloce andrea eh bo finisce qui vabbè vabbè pareggio in questo caso vengono steccato in tutti i modi dai un pareggio una pittoria di pareggio e una sconfitta ma si si fa tranquillo dai 15 tiri loro 6 questo pallo ovviamente è nostro però loro hanno avuto di culo partita successiva dai via eccoci la seconda parita contro pesi di nuovo no con barcelona vengono da un pareggio che si arrivano pesi di nuovo tutti il pesi ormai tutti 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 giocano solo con il pesi giocano solo con il pesi che dicono non lo usiamo nei mar perchè fa le skill mi sono accollati proprio matri che dirà cristiano occhio alla botta e vabbè ma li becca sempre in pancia e l'avversa la porta bene qui bello po' la capitana questo fornuto da che passa non è facile trovare spazi ci provano con la circolazione di pancia si percorre si blocca subito tutti si chiama pure il time out cornuto preso la difesa e quindi la salida attaccando fin dai primi minuti pazzesco che ritmo e questo è un'altra cambiania inizio è quella copertina del video ronaldo lì con la parte del corno il corno il corno in questo modo l'armidro concede due minuti di recupero nooo e vabbè gol meno male che scarso non riesce a bloccare ma via dai dai la pia di bar niente niente nei bar non si riesce a uscire non si riesce a cazzo uscire cerchio lì di nuovo cerchio lì non basero un cazzo grazie che dirà my way mai mai più mai mai vantaggio vado a fare subito il cambio abbiamo quello di prima che tanto ci hanno fatto sperare Alessandro eccolo là dai che cazzo bene tutto però e lì e lì ha fatto un po' giusto che va a riuscire vieni un altro 1-1 col PSG ma Ronaldo è l'altro cazzo mi fa cacare mi fa cacare ho vinto mi fa la scherza rosso non ne fa ma no ma no ma no ma no cosa vuol dire io se faccio gli altri mi va giallo proprio giallo per una cosa di gente secondi fa dai dai vaffacchino che cazzo me ne fai che cazzo non può stare qua poi pure è caduto nulla di fatto qui brava l'uva bonucci bonucci vabbè vabbè devo fare proprio il passaggio vabbè bonucci per passaggio ne devi chiedere per farti capire vabbè ho chiesto di più uomo però taglia nel mezzo eccolo eccolo oddio che cazzo di cosa ho fatto siiii ma che sono metto bernardeschi per l'hai fatto il cross di chi ho detto guarda la fa benissimo mi arriva dove sono mi sono messo io guarda la piglia il volo è il segno non vi rovesciate ma adesso la sforbicia cr7 la mettono in copertina con la roba lì anche se adesso perdiamo bonucci è l'anno delle rovesciate mi mancava proprio è l'è più flic è il miracolo del portiere che sventa il terroi che riflessi ecco il bernard la ragazza non mi ha detto anche per il bernard ma si è per controllare gestire questo risultato ma sono come con che dire che si è tenuti per 5 anni veronica la situazione complicata oddio alexandri matuidi boom no vabbè con il portiere questo qua ne faremo mai uno ma sono ancora avanti ma che non si sono mangiati è la combinata qua a bier potevano essere a più 2 ora ma finiamo noi madonna che palletta il bernard niente morto morto dai ci piace ah ecco 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 e mo ci abbracciamo gol porco dio la difesa 3 che non serve a un cazzo sono stati bravissimi cinici nello sortare bene ragazzi come avete potuto vedere le partite non sono andate troppo bene sono andate abbastanza male però era giusto il primo episodio in cui poi noi a tifano non ci giochiamo neanche troppo però ci sarà tempo per migliorare e imparare a giocare vatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo a un prossimo video di questa possibile serie che vedremo cosa ne verrà fuori nei prossimi episodi detto questo vi saluto bella anche da parte dell'Andreone grazie a tutti